Musica Venerdì 22 febbraio 2013, presso la Sala San Ambrogio della sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Milano, si è svolto l'incontro tecnico dal titolo Antisismica, Materiali da Costruzione, Impiantistica, Prefabbricati, Cantiere, Sicurezza e Fissaggi. Si è trattato del primo appuntamento del 2013 organizzato da Action Group e dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Milano, al quale seguiranno altri eventi formativi gratuiti che offrono agli iscritti la possibilità di coniugare gli obblighi formativi con l'aggiornamento professionale. Corre è una società che nasce da un know-how sul calcestruzzo che è specializzata sulla trattazione e risanamento del calcestruzzo nuovo e già costruito. Questo in un campo molto vasto, cioè sia ai campi delle grandi opere, sia nel campo delle ristrutturazioni. Io nasco come tecnologo del calcestruzzo in una società di famiglia che è una produzione di calcestruzzo a Parma sui 120.000 m3 l'anno. Sono venuto a parlare del nostro sistema Cora Zero, che è un sistema impiegato all'estero da una trentina d'anni, in Italia di nuova generazione, che si basa sulla sostituzione di tutti i sistemi tradizionali necessari all'impermeabilizzazione. Il sistema funziona mediante un additivo chimico da inserire all'interno del calcestruzzo fresco nella centrale di betonaggio, il quale ha la proprietà di cristallizzare la matrice cementizia, cioè chiudere tutte le porosità all'interno del calcestruzzo, rendendo di fatto impossibile il passaggio dell'acqua.